Benvenuti su DealFlower, siamo qui con Federico Sforza, Chief Executive Officer di IDEXA, anzi Banca IDEXA da poco, poi ci spiegherà che cosa cambia. Inizialmente tutto Federico, benvenuto e ci puoi spiegare qual è il bilancio di questi primi mesi di attività? Assolutamente, buongiorno e grazie per l'opportunità. Allora, è stato un primo anno molto intenso e molto positivo. Siamo nati in pieno Covid, IDEXA è stata fondata da un gruppo di 10 promotori, abbiamo fatto un fundraising importante, il più grande in Italia mai realizzato e il più grande in Europa del 2020, abbiamo raccolto 48 milioni, questo ci ha consentito di comprare una 106 che si chiamava FIDE, rivendere il core business di quella 106 e l'accessione del quinto dello stipendio, sopra montare una nuova macchina, di fatto montare IDEXA, sviluppare un primo prodotto che si chiama X-Instant, cioè un prestito istantaneo per le piccole imprese, fare i nostri primi clienti e molto recentemente siamo effettivamente diventati banca dopo un lungo iter, quindi è freschissima la cosa da un paio di giorni. Che cosa comporta nell'attività di IDEXA questo cambiamento, avere la licenza bancaria? Allora è un cambiamento importante, importante per i nostri clienti, il primo aspetto è la possibilità di dare un maggior supporto alle piccole imprese in questa fase delicata di ripartenza, quindi avere accesso a funding bancario, a funding facilitato ci consente di poter aumentare di più e contribuire di più alla ricrescita di fatto, alla ripartenza. Ad esempio per adesso stiamo sviluppando un'iniziativa dedicata all'oreca, cioè ai bar, ai ristoranti che hanno un bisogno tremendo di ripartire, ad un'esigenza di circolante, essere banca ci consente di avere un accesso facilitato al funding e quindi di poter impiegare più facilmente dando credito alle imprese più meritevoli. Secondo aspetto importantissimo è la possibilità di non solo coprire le esigenze di finanziamento ma anche le esigenze transazionali, quindi andremo a offrire per esempio conti correnti dedicati agli imprenditori. Terzo aspetto è poi la sicurezza, nel senso che essere banca comporta anche per i depositanti una certa tutela, ad esempio sui depositi. Sicuramente essere diventati banca è un milestone per voi, ma non è certo un punto d'arrivo. Che piani avete di sviluppo per i prossimi mesi e anche in vista del 2022? Allora, come dicevo prima, adesso siamo molto focalizzati nel supportare al massimo la ripresa e la riapertura delle imprese, quindi stiamo aprendo tutta una serie di partnership, di accordi con società del mondo digital, con assicurazioni, con associazioni di categoria, con confidi per poter farci conoscere e quindi cominciare a far conoscere IDEXA come supporto per i bisogni degli imprenditori. Secondo aspetto, stiamo lavorando adesso che abbiamo avuto l'autorizzazione a un conto corrente molto molto distintivo per gli imprenditori, molto semplice, molto veloce e che dia servizi a valore aggiunto, quindi facilitare un pochettino usando la potenza dei dati, dell'open banking, della PSD2, servizi all'imprenditore per meglio comprendere il suo status finanziario e aiutarlo a fare proiezioni di flussi di cassa, eccetera. Terza cosa su cui stiamo lavorando sono varianti di prodotto, quindi ad esempio hanno appena rinnovato le garanzie statali con modalità diverse, stiamo lavorando per poter dare credito garantito sempre in maniera molto semplice e molto veloce. Adesso da quante persone è composto il team e state reclutando? Sì, siamo partiti da una decina, adesso siamo una cinquantina di persone e prevediamo nel giro, entro il 2022, di avere un centinaio di assunzioni, tutte molto focalizzate un po' sulle nostre competenze chiave, quindi mondo dati, data scientist, esperti di artificial intelligence, mondo digital e sostanzialmente questi due o tre mondi qua, il mondo IT. Un'ultima domanda Federico, in parte ne hai già accennato, una fintech come voi, una challenger bank come la vogliamo chiamare, molto focalizzata sulle PMI, che ruolo può avere nel PNRR, soprattutto visto che voi vi rivolgete alle imprese che hanno sofferto maggiormente. Sicuramente le fintech in generale, anche noi, possono avere un ruolo molto molto importante di supporto alla ripresa, perché hanno queste caratteristiche, offrono prodotti molto veloci, molto semplici e nel nostro caso utilizziamo dati molto freschi. E quindi abbiamo un approccio alla valutazione del merito creditizio molto diverso. Noi in particolare utilizziamo i dati dell'open banking, della PSD2. Questo vuol dire che siamo in grado di vedere in tempo reale e di ricostruire in tempo reale i flussi di cassa dell'impresa. E cosa vuol dire questo? In un'epoca molto complicata, durante la pandemia, molti settori hanno avuto tanta volatilità, ovviamente. Le banche tradizionali utilizzano di solito i bilanci, sono la componente principe della valutazione del merito creditizio. Purtroppo i bilanci 2019-2020 sono obsoleti, non valgono nulla, avendo avuto il lockdown. Quindi in particolare per alcuni settori, facciamo l'esempio dei ristoranti, che fanno fatica ad avere accesso al credito oggi, perché il bilancio dell'anno precedente vale poco o nulla. Questi settori come i ristoranti che si approcciano alla fintech riescono a vedere i flussi di cassa valutati in un altro modo. Noi riusciamo per esempio a distinguere il ristorante che ha tenuto chiuso da quello che invece è stato molto meritevole, si è reinventato, si è digitalizzato e quindi ha cominciato per esempio a fare consegne a domicilio, oppure ha cominciato a mandare Whatsapp e appunto consegnare a casa e quindi che è più pronto alla ripartenza. Quindi questa possibilità di non mettere in blacklist e veder rifiutato a priori, ma di poter distinguere cosa è successo fino a stamattina e capire chi è più pronto alla ripartenza, io credo che sia un fattore importante, soprattutto per le imprese che hanno un'esigenza di liquidità in questo momento, come dire, non hanno dei bilanci particolarmente soliti dagli anni precedenti, ma che sono già pronti a ripartire come tutti vogliamo e speriamo. Grazie mille a Federico Sforza, Chief Executive Officer di Banca Idexa, per essere stato ospite di Dealflower e arrivederci. Grazie a voi, buona giornata.